Filotei Loreto, da oltre 50 anni leader nell'importazione ed esportazione di funghi porcini. La ditta Filotei Loreto dedica particolare attenzione alla qualità dei suoi prodotti, ideando e realizzando soluzioni sempre nuove in grado di esaltare e valorizzare il sapore dei funghi porcini e per rafforzare ulteriormente il suo marchio sul mercato. Visita il nostro sito www.filotei.com